Ciao a tutti da Krista T. Jetson, un autore del blog. Una grande sorpresa per tutti gli amici dei migliori cartoni anni 70 e 80 e amici anni 70 e 80, il grandissimo Douglas Miken. Ciao a tutti. Cioè ragazzi, c'è un mito qui accantato insieme ai Super Robot. Mazinga, Sanpei, Candy Candy. Candy Candy, ci fai sentire un pezzo di Candy Candy. La vita è sola, non sei. Bellissima. E il grande Mazinga, due pezzi. Sema il legno delle tenebre del mare di Candy. Mazinga. Mazinga. Grandissimo. E allora diamo un saluto a tutti quanti, i tuoi fans. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao a tutti. È stato veramente un decennio. Ci vediamo il 24 a Elsa Moran. Perciò ricordiamo dove ti possono e dove ti possiamo trovare. 24 ottobre. A Elsa Moran. Teatro Elsa Moran. Perfetto. Allora tutti quanti fatemi vedere. Ci dai qualche anticipazione? Di cosa? Cosa farete di Candy? Ma lì facciamo tutti i pezzi che abbiamo fatto. Tutti. Perciò 24 ottobre 2014. E poi il nuovo CD. Facciamo. Lo fate in diretta live? Si chiama Fly. Fly. Perciò... E chi interessa ti fai su Facebook Super Robots Official. Perfetto. Super Robots. E noi ci mandiamo a casa per il CD. Perfetto. Noi ti ringraziamo di queste grandissime anticipazioni. Anni 70-80 sarà veramente felice. E noi vi salutiamo tutti quanti. Ciao. Un bacio a tutti. Ciao. Grande. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.